Arriverà sabato 5 gennaio dalle ore 16.30 la Befana in volo, evento organizzato da Ponte Cagnano Centro, centro commerciale naturale, che rientra nel cartellone di eventi La Magia del Natale. Una parada di Befane giganti attraverserà le strade di Ponte Cagnano-Faiano. Partendo da Corso Italia, il corteo giungerà in via Tevere, passando per via Carducci, per i giardini di piazza Sabato, via Europa e piazza Risorgimento. Nelle due piazze principali i partecipanti potranno inoltre visitare la casa della Befana. Atteso anche lo spettacolo di Willy Wonka, un personaggio folle e divertente che si esibirà in gag attinte dal celebre film La Fabbrica di Cioccolato.